Musica Allora ragazzi Volevo chiarire un attimino una cosa perché qua stiamo dando un po' i numeri Io e Sara non ci siamo incontrati apposta e ci siamo dati appuntamento No, toglietevelo dalla testa Semplicemente sono tornato da Ferrara, siamo andati io e lui al Campania Sono entrato dentro un bar e c'era lei con suo padre e altre due persone Stop, l'ho salutata e basta Educazione, basta Quindi vi prego Non fatevi film Il ritorno di fiamma Il ritorno di fiamma di che? Di che? Cosa? Quando? Dove? Perché? Basta I cobra